Dalla proposta di un professionista pescarese emerge una speranza per i contribuenti abruzzesi di fatto esclusi da alcune agevolazioni previste dalla pace fiscale, come per esempio la rottamazione dei bolli auto non pagati. Forse una speranza c'è e se c'è risiede tutta nella politica. L'appello è rivolto ai parlamentari abruzzesi o a quelli delle regioni compagne di sventura dell'Abruzzo. Ricordiamo che, di fatto, gli abruzzesi non possono accedere alle agevolazioni previste dalla rottamazione di alcuni tributi solo perché, per recuperare il credito, la Regione o i Comuni non passano da Agenzia delle Entrate e Riscossione, la ex Equitalia, ma da società diverse o private. L'articolo 3 della legge che ha previsto la rottamazione ter fa riferimento agli agenti di riscossione, dal quale sembrerebbero esclusi tutti gli enti privati anche per successivi chiarimenti che sono intervenuti. Abbiamo due strade, o quella della rassegnazione, che però la escluderei perché, insomma, veramente non ha senso. Oppure abbiamo una grande opportunità, certo non noi semplici cittadini o professionisti, ma ci vuole un politico che con un pochettino di attenzione, in questo momento anche di campagna elettorale, però gli impegni sono tanti, ma qui c'è l'interesse di tantissimi cittadini nella Regione Abruzzo, è quella di inserire un emendamento nella prossima conversione in legge che scadrà il 12 febbraio del decreto legge semplificazioni, che è stato approvato già dal Senato ed andrà in questi giorni, credo forse già, all'attenzione della Camera. E quindi in quel contesto inserire una piccolissima norma che potrebbe consentire di estendere la rottamazione terra e la definizione dei carichi fino a 1.000 euro anche ai carichi attualmente in affidamento agli enti di riscossione privati. Ci sono regioni confinanti con l'Abruzzo che possono, avendo affidato il carico all'agenzia di riscossione qui ex Equitalia, i cittadini possono soffrire della sanatoria e quindi anche per il bollo auto. A distanza di pochissimi chilometri i cittadini della Regione Abruzzo non si capisce per quale meccanismo, ma semplicemente il fatto che il carico è stato affidato ad un ente di riscossione privato non agente alla riscossione e non ne possono soffrire. C'è tutto il tempo, la rottamazione scade il 30 aprile 2019 mediante apposita domanda da presentare agli anticompetenti. Il 12 febbraio abbiamo la data ultima per la conversione in legge del decreto legge semplificazioni. Ci vuole qualcuno che con un minimo di attenzione anche bastano veramente tre righe e se ne faccia carico.